Per quel che riguarda la salute del Movimento 5 Stelle è buona, noi continuiamo sugli stessi capisaldi, sugli stessi principi, sulle stesse regole che ci hanno fatto entrare in Parlamento nel 2013, ci presenteremo alle prossime elezioni con dell'esperienza, con preparazione, con la voglia di governare, sceglieremo il nostro candidato premier a settembre durante Italia 5 Stelle che si terrà a Rimini a fine settembre e presenteremo una squadra di governo per risolvere dei problemi atavici di questa nazione in modo sensato, senza utilizzare gli schemi, gli slogan, l'ideologia, ma cercando di trovare soluzioni ragionevoli che fanno bene ai cittadini italiani. È quello che è mancato a questa nazione e per fortuna che Beppe Grillo e Gianroberto Casareggio hanno avuto questa intuizione dando un'alternativa, dando una possibilità ad una nazione che comunque era completamente impantanata. Lunga vita al Movimento 5 Stelle.